Ritenute d'acconto, prestazioni occasionali, lavoro occasionale. Nel linguaggio comune queste espressioni sono utilizzate come se fossero dei sinonimi, ma siamo sicuri che è proprio così? Ciao, sono Giulia, sono una commercialista e sul mio canale ti do informazioni e strumenti per capire il mondo delle tasse. Nel video di oggi facciamo chiarezza su cosa sono le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e ti spiego come usarle dall'A alla Z. Comunemente quando si parla di ritenuta d'acconto ci si riferisce al lavoro autonomo occasionale, che è un tipo di lavoro che viene spesso semplificato in lavoro occasionale o prestazioni occasionali. Se però togliamo la parola autonomo rischiamo di confondere questo tipo di prestazioni lavorative con delle altre che purtroppo hanno un nome simile ma che sono molto diverse e che sono le prestazioni di lavoro occasionale. Queste prestazioni una volta si chiamavano voucher, quindi avevano un nome che le distingueva più facilmente, oggi purtroppo hanno un nome molto simile al lavoro autonomo occasionale. Sono però delle prestazioni di lavoro potremmo dire simil dipendente e che viene solitamente utilizzato per attività quali il lavoro domestico o piccole attività manuali, come ad esempio il giardinaggio. Il lavoro autonomo occasionale si riferisce invece esclusivamente a prestazioni di tipo intellettuale, quindi quelle che se svolte con una partita IVA verrebbero classificato come attività di un libero professionista. Non è invece possibile inquadrare come lavoro autonomo occasionale un'attività di tipo manuale, come ad esempio quelle artigianali, oppure quelle attività intellettuali che richiedono l'iscrizione obbligatoria ad un ordine professionale per poter essere esercitate. Questa tipologia di prestazioni intellettuali può essere regolata con il meccanismo della ritenuta d'acconto, fin tanto che non diventa obbligatorio aprire partita IVA, ovvero fin tanto che l'attività resta occasionale e non è invece abituale. Non è sempre semplice capire se un'attività è fatta in modo occasionale o abituale, perché non esistono dei criteri oggettivi, dei parametri fissi per stabilire il confine tra abitualità e occasionalità. È una valutazione che va fatta caso per caso considerando la situazione nel suo complesso. Se vuoi approfondire questo tema ti lascio qui sotto nella descrizione del video il link ad un articolo nel mio blog in cui ti spiego un po' più nel dettaglio come funziona e ti faccio degli esempi concreti. In questo video ti specifico però una cosa molto importante. Il limite di 5.000 euro di cui sicuramente avrai letto non è un limite che individua quando devi aprire o non devi aprire partita IVA, è un limite che identifica soltanto la soglia al di sopra della quale anche per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale devi versare i contributi alla gestione separata Inps. Questo non significa però che se sei al di sotto dei 5.000 euro sicuramente non devi aprire partita IVA o che se li superi sicuramente la devi aprire. Ritenuta d'acconto non è un sinonimo di lavoro autonomo occasionale perché ritenuta d'acconto non è un tipo di lavoro o di inquadramento fiscale ma è semplicemente un meccanismo di versamento delle imposte. In pratica il committente non versa al lavoratore per intero il compenso che gli è dovuto ma glielo versa al netto di una ritenuta, cioè una trattenuta pari al 20% del compenso e questa trattenuta viene versata allo Stato come un anticipo delle imposte dovute dal lavoratore. È un meccanismo molto simile a quello dei lavoratori dipendenti. L'unica differenza è che per i dipendenti le trattenute sono calcolate in modo preciso e quindi in molti casi poi non è necessario fare la dichiarazione dei redditi. Invece per il lavoro autonomo occasionale questa ritenuta ha una aliquota secca diciamo del 20% che fa sì che poi nella sostanza bisogna sempre fare la dichiarazione dei redditi ma di questo ne parliamo poi più avanti nel corso del video. Dal fatto che ritenuta d'acconto e lavoro autonomo occasionale non sono sinonimi deriva anche la conseguenza che non necessariamente per esserci lavoro autonomo occasionale deve esserci una ritenuta d'acconto. La ritenuta d'acconto infatti c'è soltanto se il committente della prestazione è quello che viene chiamato tecnicamente sostituto di imposta ovvero un soggetto che è tenuto a fare le ritenute e a versarle allo stato. Non tutti i committenti sono sostituti di imposta e i tre casi più frequenti nei quali puoi fare una prestazione di lavoro autonomo occasionale senza subire delle ritenute sono questi tre. Innanzitutto se il tuo committente è un privato una persona senza partita IVA. Il secondo caso è quello in cui il tuo committente è magari un'azienda ma non è italiana è un'azienda estera e il terzo caso è quello in cui il tuo committente ha una partita IVA italiana ma è in regime forfettario. In tutti questi casi tu farai comunque le tue ricevute per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale che hai fatto ma non ci sarà indicato una ritenuta su queste ricevute perché non hai un sostituto di imposta che te la faccia. Riceverai il compenso per intero e verserai le tue taste interamente con la dichiarazione dei redditi. Adesso che abbiamo visto cosa la ritenuta d'acconto e quando si può utilizzare vediamo un po' di aspetti pratici. Innanzitutto ti spiego come si calcola correttamente la ritenuta d'acconto del 20%. Molto spesso nel mio lavoro vedo delle ricevute con delle ritenute calcolate erroneamente sul compenso netto anziché su quello lordo. Quindi adesso vediamo insieme un esempio semplicissimo in modo tale che stai sicura di non sbagliare. Supponiamo che tu hai ricevuto 100 euro da un tuo committente soprattutto se anche originariamente vi siete accordati sul compenso netto ti potrebbe venire naturale compilare la ricevuta in questo modo. Hai ricevuto 100 euro quindi la ritenuta che il 20% è di 20 euro e quindi il compenso lordo sarà dato da 100 euro più 20 euro 120 euro. La ricevuta compilata in questo modo però sarà sbagliata perché prima abbiamo visto che la ritenuta deve essere il 20% del compenso lordo e il 20% di 120 euro non è 20 ma è 24 quindi da qualche parte c'è qualcosa che non va. Per calcolare la ritenuta nel modo corretto quindi non puoi partire dal compenso netto ma devi prima calcolare il compenso lordo. Ma come fai a calcolare il compenso lordo se conosci solo quello netto? Dobbiamo fare un piccolo ragionamento matematico. Se non hai voglia o fai fatica a seguire il ragionamento non importa prendi per buona la conclusione che trovi alla fine della spiegazione. Il compenso netto è pari al compenso lordo meno la ritenuta del 20%. Quindi il compenso netto è pari all'80% del compenso lordo. Se giriamo l'equazione otteniamo quindi che il compenso lordo è pari al compenso netto diviso 80%. Se lo fai con la calcolatrice è sufficiente che prendi il compenso netto e poi i digiti diviso 0,8. In questo modo otterrai il compenso lordo. A questo compenso lordo andrei poi ad applicare la percentuale del 20% per trovare la ritenuta corretta. Tornando all'esempio di prima se il compenso netto è 100 euro il compenso lordo sarà 100 euro diviso 80% che è pari a 125 euro. La ritenuta sarà quindi pari al 20% di 125 che è 25 euro e infatti poi tutto torna perché a questo punto abbiamo compenso lordo 125 euro meno ritenuta 25 euro compenso netto 100 euro. Una volta che hai calcolato correttamente gli importi di compenso netto lordo e ritenuta devi compilare la tua ricevuta. Nella ricevuta dovrai inserire correttamente tutti i dati anagrafici tuoi del tuo committente e devi anche inserire tutte quelle diciture necessarie per far sì che la tua prestazione sia inquadrata correttamente come lavoro autonomo occasionale dal punto di vista fiscale, previdenziale e dell'iva. Per aiutarti ho preparato un facsimile che puoi utilizzare per preparare le tue ricevute e che contiene già tutte le diciture necessarie. È un facsimile in Excel che ti aiuta anche a calcolare la ritenuta correttamente sia partendo dal compenso lordo che da quello netto a seconda di come ti è più comodo. Puoi scaricare gratuitamente il facsimile che ho preparato cliccando sul link che trovi qui sotto nella descrizione del video. Ricordati anche che le ricevute devono essere numerate progressivamente con una numerazione univoca per tutti i clienti. Quindi ad esempio potrai fare la ricevuta 1 per il cliente X, la ricevuta 2 per il cliente Y e poi una ricevuta 3 nuovamente per il cliente X. Se la ricevuta supera l'importo di 77,47 euro devi applicare sulla ricevuta stessa anche una marca da bollo da 2 euro. La marca da bollo va comprata preventivamente perché non può avere una data successiva a quella della ricevuta. Quando tu compri le marche da bollo in tabaccheria, quando te la stampano, viene riportata sulla marca da bollo stessa la data in cui è stata stampata. Questa data può essere uguale o antecedente a quella della tua ricevuta. Arriviamo all'ultimo punto di questa mia guida sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale e parliamo della dichiarazione dei redditi. Come abbiamo accennato prima, la ritenuta è una ritenuta d'acconto e si chiama così proprio perché quella che ti viene fatta è soltanto un acconto delle imposte che devi versare. Quando si fanno prestazioni di lavoro autonomo occasionale è in pratica sempre obbligatorio fare la dichiarazione dei redditi. I casi più frequenti in cui potresti trovarti sono di fatto due. Il primo è quello in cui le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono state la sua unica entrata. In questo caso se il totale dei compensi lordi è inferiore a 4.800 euro allora rientri nella fascia di contribuenti cosiddetti incapienti. Quindi in realtà non devi versare nessuna imposta. Una parte di imposta però l'hai già pagata tramite le ritenute d'acconto che ti sono state fatte. Quindi devi presentare la dichiarazione dei redditi per chiedere a rimborso queste ritenute. Il secondo caso abbastanza frequente è quello in cui le prestazioni di lavoro autonomo occasionale accompagnano un lavoro dipendente. In questo caso la ritenuta d'acconto del 20% sarà insufficiente perché il 20% è più basso dell'aliquota minima dello scaglione più basso dell'IRPEF che è il 23%. Quindi devi fare la dichiarazione dei redditi per versare la differenza tra le imposte effettive e la ritenuta che ti è stata fatta. Spero che questo video ti sia stato utile ho cercato di coprire tutti gli aspetti che secondo me sono quelli più importanti delle ritenute d'acconto del lavoro autonomo occasionale. Se hai delle domande naturalmente fammele nei commenti. Io ti ringrazio di avermi seguito fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto!